video games party a lucca comics and games 2011 abbiamo avuto l'onore di avere anche la community di halo tra i nostri siamo riusciti anche con non poca fatica a spostare il torneo che era previsto per lunedì a domenica ma per noi è stato un enorme piacere e allora mi faccio raccontare direttamente dai protagonisti come è andato questo torneo partendo dalla terza posizione ecco qui i terzi classificati al torneo di halo ciao ragazzi ciao a tutti allora nome nick e team noi siamo il team erb il mio nick danny e danilo red bull riccardo cacchi 91 fabio marco on fire marco allora ragazzi come è andato il torneo per voi è andato bene speravamo in un podio sì sì l'abbiamo ottenuto facile bene facile allora per voi che siete arrivati terzi oltre ai ringraziamenti dello staff di video games party alla bellezza di sabrina arrivano quattro videogiochi per ps3 grazie ragazzi subito allora volevo salutare un nostro mio caro amico di bari gerico che purtroppo ha dovuto rimanere a casa perché lui è troppo forte per fare queste lan e partecipa solo l'an europea e invece vorrei salutare il nostro capo il capo del team erb che non è potuto esserci è un saluto a scan ma bettiska betti voi volete far saluti ragazzi anch'io a skank io invece saluto mia mamma ciao mamma ciao mamma re che play grazie ragazzi per aver partecipato al nostro torneo fateci sfilare i secondi arrivati hanno qualche problema logistico ma stanno arrivando arrivano arrivano giuro guardali eccoli qua secondi arrivati o povero l'andiamo a prendere enrico lui non può perché sei l'unico esponente dei secondi arrivati a ti vengo a dare una mano allora dai eccoli qua che arrivano pop la mazza o da skater proprio allora ragazzi vostro nome nick e team alessio fragster team vendetta niccolò orso team vendetta metton fire matthew federico fedex allora grandissimi come è andata la finale ma c'erano sapevamo che erano avvantaggiati comunque abbiamo fatto quello che potevamo ci siamo divertiti ecco l'importante divertirsi sì sì ma anche vincere però ci stava tu che ha fatto mi sono fatto male mi sono rotti crociato mamma mia ragazzi i crociati sono brutti volete salutare qualcuno sì e i miei genitori comunque mi hanno permesso di venire a tutti i miei amici saluto dart da da catania bene bene ragazzi voi salutiamo gerico che come sempre non si fa vedere eh io il mio tuono saluto gerico e tuono ragazzi per voi sabrina a oh scusami arianna porca miseria io ormai che abbiamo due talent c'è c'è da morire arianna vi da quattro videogiochi per xbox 360 e quattro cappellini offerti da gameloft grazie ragazzi arrivederci arrivederci e fateci arrivare i primi arrivati eccoli qua fateceli arrivare oh mi sono sbagliato ari vieni qua ari no dai vieni qua ti prego scusa mi sono sbagliato niente ari tranquillo niente va bene grazie me la meritavo il clan primo arrivato al torneo di halo eccoli qua che arrivano loro sono fortissimi lo sappiamo non c'era storia in finale ci hanno detto brandizzati site com il vostro nome il vostro nick e il vostro team io mi chiamo riccardo tag richard su live giacomo saian against all odds andrea eustriking vengo da pisa andrea da novara e vengo da novara bravi bravi no no era il team ma da qua la non si sente ragazzi è emozionato allora com'è andata la finale com'è andato il torneo torneo bene un po' di problemi tecnici all'inizio la luce vero luce mancanza di connessione a internet ce la siamo gestita abbiamo risolto tutto bravissimi gran bel torneo ci siamo divertiti alla fine poi abbiamo conosciuto nuovi utenti che da un po' che gioca da poco che giocano mi ha fatto molto piacere veramente bene questo è un po' lo spirito la filosofia di questi videogames party per voi arianna a 4 videogiochi per xbox 360 tutti per voi e arianna a 4 coupon per voi ho già mannaggia cidella ragazzo ho sbagliato il suo nome è un casino stasera mi sa che non ce n'iamo manco insieme non ce n'è manco insieme va bene ragazzi grazie complimenti per aver vinto volete fare dei saluti a qualcuno in particolare sì vorrei ringraziare site com per averci dato la possibilità di magliette sponsor e supporto anche il nostro team che abbiamo inaugurato da qualche mese saremo presenti spesso all'elan vi aspettiamo io volevo salutare il mio team alessandro riccardo e andrea un altro nemico the world back il mio idolo è l'anenimo ralph io volevo salutare beppe il nostro teammate jacin e basta la famiglia io dario cozzo che è un gran laggante niente grandi grandi ragazzi e salutate anche arianna perfetto ovviamente allora ragazzi grazie ancora e buon rientro nei vostri nelle vostre rispettive città i vincitori del torneo di alo rich qui a lucca comics and games 2011 perdonami arianna dillo tu video games party il divertimento con arianna continua no one can hear the thing